Un po' a sorpresa Skylum ha rilasciato un importante aggiornamento per Luminar AI si chiama Luminar AI Update 4 e introduce una delle funzioni più attese il bokeh per i ritratti ma ci sono anche altre novità interessanti Ciao sono Mariano di VideoZappo.com e oggi parliamo di questa nuova versione di Luminar AI formalmente è Luminar AI 1.4 Skylum preferisce chiamarlo Luminar AI Update 4 ma le novità più importanti sono sostanzialmente tre ovvero l'introduzione del tanto atteso portrait bokeh ovvero la sfocatura dello sfondo per i ritratti la nuova gestione delle texture che è prima di tutto più veloce ma soprattutto c'è un browser visuale che facilita notevolmente l'utilizzo di questa funzione e infine una rifinitura della sostituzione del cielo che permette di posizionare con precisione l'orizzonte è più complicata a spiegarla che a fartela vedere la vediamo tra un istante l'aggiornamento è gratuito compreso nella licenza di Luminar AI se non hai ancora questo software ti spiegherò tra poco come averlo a prezzo scontato ma se appunto hai già la licenza il software si aggiornerà da solo se così non fosse puoi andare nel menu con la scritta Luminar andare su guida e schiacciare controlla gli aggiornamenti io in questo momento sono all'ultima versione considera che quella che ti mostrerò è una versione beta del software dunque potrebbero esserci delle piccolissime differenze rispetto a quello che vedrai una volta che scaricherai questo aggiornamento cominciamo subito dal bokeh andiamo direttamente in modifica e il bokeh AI è una funzione che trovi nel pannello dedicato al ritratto Luminar AI mette già a disposizione tanti strumenti per il ritratto adesso abbiamo anche la possibilità di alterare lo sfondo dunque schiacciamo il ritratto bokeh la traduzione italiana è sempre quella di Luminar e la prima cosa da fare è spostare il valore io adesso te lo esagero in questo momento Luminar sta calcolando in realtà l'ha già fatto la maschera e per la prima volta nella storia di Skylum abbiamo accesso diretto a questa maschera che viene in realtà generata dietro le quinte come vedi c'è una parte che non c'entra assolutamente nulla e che invece il software ritiene essere una delle cose da tenere a fuoco quello che vedi in rosso è quello che va tenuto a fuoco ma possiamo con questo che ho in mano che è un pennello rimuoverla in questo momento io vedi sono nella funzione focus quindi aggiungerei vedi pennellando delle zone a fuoco premendo la X sulla tastiera posso scambiare il pennello e prendere quello per la sfocatura dunque togliamo questa pennellata che non c'entrava nulla e qua puliamo questa parte vedi che già così il software ha fatto un gran bel lavoro se non fosse che qua ha preso vedi questo pezzo che di nuovo non c'entrava niente ho già il pennello per il defocus dunque posso toglierlo in questa fase non c'è bisogno di essere precisissimi vedi che anche con una maschera approssimativa riusciamo ad ottenere un discreto risultato nota come la sfocatura tenga in considerazione la prospettiva dunque Luminar utilizza il suo algoritmo che calcola la profondità della scena per stabilire i vari piani e decidere quanto sfocare cosa dunque capisce la distanza a cui si trovano gli oggetti la cosa non finisce qui perché abbiamo i vari controlli sullo sfondo la luminosità per esempio perché vogliamo magari rendere lo sfondo un po' più scuro per staccare maggiormente il soggetto il bagliore delle luci che vedi fa questo lavoro che solitamente avviene quando lo sfondo è sfocato e volendo possiamo anche per esempio freddare leggermente lo sfondo per creare un contrasto maggiore con la figura ma la cosa realmente interessante è questa ovvero dove inizia la sfocatura vedi in questo modo io la sto portando molto più vicina alla macchina quindi sto esagerando l'effetto in maniera evidentemente eccessiva ma in quest'altro modo invece posso diminuirlo dunque spostare il piano della sfocatura lontano dalla macchina quindi diminuire questo effetto bokeh sostanzialmente aumentare la profondità di campo c'è poi la correzione dei bordi che se la diminuisci tende un po' a dare meno la sensazione che la figura sia ritagliata al contrario se la porti al massimo da questo linea molto netta con i particolari magari anche più fini però io trovo che l'effetto sia tutto sommato troppo innaturale nel momento in cui vai ad esagerare con questo controllo ti voglio mostrare anche quest'altra immagine per farti vedere la potenza di questo calcolo che fa luminarai sulla profondità vedi che individua correttamente la mia figura ma capisce anche che queste rocce sono pressa poco sullo stesso piano e dunque sfoga soltanto quelle dietro possiamo come ormai già hai capito avvicinare questa sfocatura alla macchina e evidentemente dobbiamo abbassare il valore di questa sfocatura per dargli un aspetto naturale e vedi che insomma il risultato è interessante ma soprattutto è interessante il fatto che funziona con qualsiasi immagine e con qualsiasi focale qualsiasi apertura di diaframma insomma in qualunque condizione di luce puoi ottenere questo tipo di effetto è chiaro che ottenerlo in maniera naturale funziona meglio e a proposito di questo voglio mostrarti quello che invece è un po un limite secondo me di questo sistema questa foto è stata post prodotta esclusivamente utilizzando uno dei miei modelli ad intelligenza artificiale per il ritratto li trovi nella mia nuova community il videozapp fan club dove ci sono appunto asset per la post produzione e non solo per luminar corsi molti di questi sono gratuiti e contenuti in abbonamento esclusivi ogni settimana con piani che iniziano a soltanto un euro al mese e un programma d'affiliazione che ti permette di guadagnare diffondendo questa mia iniziativa in un caso come questo dove vedi come c'è una discreta separazione tra il soggetto e lo sfondo nel momento in cui vado ad sfocare lo sfondo con la funzione di luminar vedi come c'è un po questa sensazione innaturale di ritagliato magari possiamo abbassare l'effetto per migliorare leggermente la situazione vedi qua nei capelli come le cose non siano esattamente perfette un modo per porre rimedio e provare a sfumare leggermente il bordo della maschera per fare questo poi abbassare di parecchio l'opacità e vedi passare qua intorno al bordo vedi come la situazione migliori ma non in maniera drastica nel complesso questa funzione di luminar non brilla per velocità ma d'altra parte ci sono un sacco di calcoli connessi e se ti stai chiedendo come va rispetto alla stessa funzione recentemente introdotta in photoshop te lo mostro tra un istante prima metti un bel like a questo video iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video dai anche un'occhiata alla mia vetrina su amazon ci sono tanti articoli tutti commentati che ho provato personalmente puoi acquistare tranquillo evitando delusioni a te non costa neanche un centesimo in più e dare una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come quello che stai guardando e sempre per risparmiare ti consiglio di iscriverti al mio nuovo canale telegram pubblico offerte sia per il mondo della fotografia che del video e anche aggiornamenti sulle mie attività personali dicevamo di photoshop ti mostro con questa immagine che vedi non ha luce flash e ti sembra un po sovraesposta ma per ora lasciamo così appositamente vedi ho sposto il cursore del bokeh e in effetti luminaria inizia a diventare parecchio pensieroso nell'aggiustare questa funzione ma tieni presente che io sto anche registrando lo schermo ecco qui abbiamo il nostro bello sfondo sfocato e a questo punto posso intervenire sugli altri parametri per esempio la luminosità il bagliore delle luci posso per esempio freddare un po l'immagine e vedi luminar ha applicato tutti questi effetti se ora vado a modificare il valore del bokeh il tempo che ci impiega vedi è decisamente inferiore a prima dunque il calcolo l'ha già fatto perde soltanto un pochino di tempo nel renderizzare l'immagine che ti ricordo è un file raw da 24 megapixel mentre parlavo vedi ha finito di fare anche quest'ultima modifica sulla luminosità ma la cosa interessante è che se io a questo punto mi rendo conto che l'immagine è un po sovraesposta nel momento in cui accedo al cursore dell'esposizione posso regolarla praticamente senza alcun ritardo vedo in tempo reale che cosa sta succedendo passiamo un attimo a photoshop e l'unico modo che ho per poter continuare ad accedere al file raw è quello di creare uno smart object partendo dal file dng che ho fatto doppio clic sul sullo smart object e in questo momento ho accesso ai dati del file raw e anche qua portiamo l'esposizione a zero così come era in luminar ai nota come in luminar io non abbia fatto altro genere di post produzione e quello che hai visto era realizzato con il mio preset a intelligenza artificiale potrei fare la stessa cosa con i filtri neurali di photoshop e questo confronto te l'ho già mostrato nel passato ti linko il video nella descrizione qui sotto photoshop ti anticipo ne esce un pochino malconcio dunque sfocchiamo lo sfondo andiamo nel menu filtro e seleziona i filtri neurali photoshop li carica ci mette un istante perché li prende dal web e il filtro che mi interessa è questo si chiama death blur lo attivo e vedi in questo momento come viene indicato anche qui photoshop sta passando i dati nel cloud in modo da poter processare l'immagine e vedi che insomma ci impiega anche un pochino di tempo io qua non ho una connessione eccellente ma insomma quei 10 megabit ci sono ora al di là di come è stata renderizzata la profondità noti che gli occhi sono sfocati questo possiamo correggerlo indicando a photoshop il punto focale dunque dove vorresti mettere a fuoco ma di nuovo parte il cerchietto blu che comincia a mandare dati nel web e come vedi insomma ci impiega una dischietta quantità di tempo ecco qui adesso inizia a funzionare parecchio meglio nota come la profondità su questa diagonale sia praticamente andata persa e io trovo anche che lo sfondo sia leggermente troppo sfogato e dunque diminuisco questo cursore di nuovo riparte il cerchietto blu che rimanda i dati nel web insomma nel complesso una bella seccatura ma se non bastasse questo è ancora come non ha finito ok aspettando con pazienza ha finito schiaccio ok se io ora voglio cambiare l'esposizione di questa foto come ho fatto prima in luminar posso evidentemente farlo perché sono in uno smart object vedi abbasso la mia esposizione perfetto andrà bene così magari che ne so tiro un pochino più fuori le ombre schiaccio ok l'effetto viene applicato ma a questo punto è ripartito il filtro neurale che sta ritrasferendo i dati sul web e sta riaggiornando l'immagine cosa che hai visto invece in luminar non succede perché accediamo direttamente ai dati del row io non voglio trarre conclusioni affrettate ma insomma potrai farlo senz'altro tu e valutare ciò che è meglio ha finito in questo istante vedi come il risultato sia gradevole ti mostro quello di luminar che evidentemente ha un controllo decisamente più efficace sullo sfondo e ti faccio anche notare come vedi la maschera che ha creato luminar magari è un tantino più aggressiva specialmente guardando vedi questa parte qua nei capelli ma gli artefatti che ha creato photoshop vedi in quest'area sono decisamente più fastidiosi e se fai caso stanno praticamente ovunque ora ti spiego molto brevemente le altre novità la prima è qua nel mascheramento locale io ora posso aggiungere un livello di tipo texture cosa che potevo fare assolutamente anche prima ma vedi abbiamo questo familiare se vuoi browser di texture posso per esempio inserire questa ne posso decidere l'opacità eventualmente posso cambiarne il metodo di diffusione in questo caso era già quello quello giusto se l'opacità capello esagerata e posso anche posizionare questa texture come meglio vedo per esempio vedi posso liberare la faccia della nostra martina e poi ingrandire la texture per dargli un aspetto più naturale posso cambiarne per esempio il contrasto da anche magari diminuendo che in questo caso funziona un pochino meglio magari scurrirla un po e vedi in pochissimi istanti riesco a gestire queste texture nota come c'è questo pulsante più che ti permette di caricare una texture dal tuo disco ma c'è anche la possibilità di mostrare le texture personalizzate che è una cartella nel tuo esplora risorse o nel tuo finder dove potrai copiare quelle che preferisci e in questo modo le troverai in questa lista eventualmente restringendo la ricerca con personalizza che praticamente ti mostra quelle nella tua cartella traduzione è come al solito piuttosto arrembante l'altra novità importante riguarda il cielo e dopo aver ovviamente sostituito il cielo mettiamo questo qua che non c'entra assolutamente niente la qualità della sostituzione del cielo l'ha già migliorata con la scorsa versione quello che invece ora è cambiato è questo qua che nell'orientamento del cielo abbiamo la posizione dell'orizzonte che ti permette molto facilmente vedi di trascinare questa linea e portarla esattamente dove all'orizzonte in questo caso vedi qua e di anche definirne il livello di sfumatura dunque averlo più netto o più sfumato eventualmente fosse storto poi anche inclinarlo non è il nostro caso e una volta che l'hai sistemato puoi schiacciare di nuovo questo tasto per togliere la visualizzazione di quel gradiente ma guarda un po quando vai adesso a spostarlo anche il riflesso avviene partendo dal punto che tu gli ha indicato e questo rende la riflessione del cielo nell'acqua molto più accurata il resto è rimasto più o meno invariato ci sono altre novità minori correzioni di bug altre piccole cose ti accennavo all'inizio a come avere luminare a prezzo scontato è molto semplice ti lascio il link nella descrizione e nel primo commento e utilizzando il coupon video zappo otterrai uno sconto di 10 euro tieni presente che questo codice sconto durante le promozioni tende a non funzionare ma di solito lo sconto durante le promozioni è piuttosto elevato considera anche che io ho un corso completo su luminar ai che trovi nella mia community il video zappo fan club puoi accederci dal pulsantone qua in mezzo ma se non vuoi acquistare il corso o anche tanti video su luminar ai e ti linko l'intera playlist sempre qui accanto intanto grazie per aver guardato questo video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video